Nuovi casi di coronavirus nel Salernitano. Un medico di Salerno in servizio all'ospedale San Francesco d'Assisi di Oliveto Citra è risultato positivo al Covid-19. La positività al virus è stata riscontrata al suo ritorno dalle ferie. Centinaia di tamponi effettuati sulle persone venute in contatto con l'uomo. Intanto a Salerno è risultata positiva al Covid-19 una donna dipendente della cittadella giudiziaria di Salerno. La donna sarebbe risultata positiva anche lei al ritorno dalle vacanze dopo essere rientrata al lavoro. È asintomatica. Chiusi gli uffici della cittadella in cui la donna lavora per le operazioni di sanificazione. L'ASL Salerno ha avviato il tracciamento delle persone che hanno avuto contatti con la dipendente. Due nuovi contagi si segnalano anche a Ponte Cagnano. Quattro nuovi contagi sono stati riscontrati nella giornata di ieri a Sarno. Si tratta di cittadini impiegati in un'attività di ristorazione. Buone notizie per l'assessore del Comune di Salerno, Dario Loffredo, rimasto contagiato al ritorno da una vacanza in Sardegna. Secondo tampone negativo per l'assessore che da oggi ritorna al lavoro al Comune di Salerno.